Ciao a tutti da Saludone, grandissima sorpresa qui a Romics, una sorpresa un fortevole, abbiamo Lucia con l'abitudine del coso che viene chiamata, ecco qui, e vediamo delle anime, Dragon Ball, My Hero Academy, Le Vita Raventure, Giorgio, Tokyo Ghoul e l'attacco di Giana. Ecco qua, allora facciamo un saluto speciale a tutte queste anime, salutiamo, ciao, vi troviamo su Facebook per tutti quanti, Lucia Baristani, grazie Lucia, ciao.